Purtroppo ogni volta è un rincorrere quelle che sono le tragedie e le emergenze. Questa volta ci confrontiamo sull'aspetto dell'abusivismo edilizio, quello che ha provocato un terremoto, come se la storia a questa nostra regione non avesse insegnato nulla. Agli inizi del Novecento il terremoto che ha subito lo stretto di Messina e Reggio Calabria non ci ha insegnato nulla su come cambiare la modalità di costruire e su come stiamo aggredendo il territorio, soprattutto nella nostra regione, con le coste che sono state flagellate dall'abusivismo, si diceva negli anni 70-80, di necessità che poi di necessità non era. E questo praticamente ha continuato in perterrito tra l'abusivismo che è illegale e poi c'è la parte invece dell'abusivismo legalizzato attraverso la dotazione degli strumenti urbanistici. A me fa specie che i direttori generali della nostra regione lancino l'allarme bomba di 142.000 case abusive, però questo non lo dicono nei dipartimenti, alla politica, alla regione per mettere in campo delle azioni. Bisogna demolire gli abusivismi, delocalizzare lì dove bisogna farlo per evitare le tragedie che ahimè da qui a qualche tempo che non sappiamo si verificheranno secondo quelle che poi sono le casistiche storiche. Salvatore Bruno per la Cinews 24